Buongiorno, sono Giannicola di Gruppo Carmeli ed oggi vi mostrerò una delle nostre Renegade aziendali. Le auto sono dotate di motore 1000 T3 da 120 CV con alimentazione a benzina, consumi contenuti e prestazioni adeguate al mezzo. La dotazione è completa di tutto, faro full LED anteriore e posteriore, navigatore da 8,4 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzazione automatica B-Zona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera. I cerchi in lega sono da 17 pollici. Ora entriamo in auto dove troviamo il volante multifunzione, il monitor da 8,4 pollici per il sistema di navigazione e l'infotainment, il cambio manuale a 6 rapporti, il freno a mano elettronico e il bracciolo. Oltre alla vettura che vi ho mostrato oggi, in colore blu, abbiamo disponibilità di altre vetture in diversi colori con percorrenze fino a 25.000 km e 15-18 mesi dalla prima data di immatricolazione. se il video ti è piaciuto lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011 i nostri consulenti saranno a tua disposizione.